Gaber diceva, ripeteva spesso che non basta il talento e citava anche un po' per associazione anche Edoardo che diceva i teatri devono essere pieni ma non basta e diceva, citava per esempio Renato Pozzetto, dice vedi se quando Pozzetto sale sul palco la gente ride anche se lui non fa nulla, questo è un talento, è un dono che hai ricevuto, facendo riferimento anche alla parabola evangelica per cui un giorno ti si chiederà conto dei talenti che ti sono stati donati e si poneva il problema indispensabile per un attore, per un artista soprattutto per un artista a contatto col pubblico ma non solo di creare un percorso evolutivo e osservava con sconforto come se non altro negli ultimi anni la tendenza televisiva invece era proprio quella di insegnare all'artista a ripetere se stesso all'infinito finché dura, rinunciando quindi in partenza secondo quella che ovviamente è la logica consumistica a qualche cosa che comunque anche nel teatro o anche nel mestiere dell'attore ha a che fare con la fatica e con il dolore. Mi sembra che tu abbia preso una strada molto diversa ma cosa ne pensi di questo? Io ho fatto una scelta tanti anni fa, dopo aver fatto la scelta di fare questo mestiere che già era rischioso ho deciso anche di fare la scelta di renderlo ancora più rischioso. Io non ce l'ho per motivi esclusivamente politici non ce l'ho avuta con Berlusconi perché era Berlusconi perché era primo ministro. Lui ha incominciato a starmi qui molto tempo prima quando i suoi emissari arrivarono nei cabaret e condizionarono con la tv commerciale lo stile e il tipo di modo come ci si poneva riguardo al comico. Si toglieva via la situazione e il personaggio per andare sul tormentone sul tempo di tre minuti perché bisognava stare dentro i tempi pubblicitari. Questo alla lunga anche se all'inizio avendo un fascino anglosassone ha colpito il pubblico ha svilitto tutte le capacità comiche di intere generazioni. Però scusa domanda provocatoria. Zelig oggi non è esattamente questa cosa? Zelig è una fabbrica è un logo prima che una palestra di follia. In cabaret deve essere Zelig quando era nato era un luogo di folli e dove sono nati dei grandi artisti che comunque questo è un mestiere lungo durano. Sfido a parte Claudio che i comici di Zelig a durare più di due anni, tre. No, non ce la fanno. Però voglio dire, gli amici, le teste pensanti di Zelig, com'è che sono arrivate a dover dipendere da Publitalia? Com'è che percorso strano? Dopo che proprio Zelig, addirittura io ricordo che diceva una gabber tu potresti essere per Zelig quello che stinga per l'Amazzonia all'inizio degli anni 90, quindi effettivamente era un laboratorio straordinario Zelig, è stata una svolta storica nello spettacolo italiano. Però adesso è andato proprio al... Questo è un problema che riguarda tutti gli ambienti, tutti i settori e tutti i mestieri in questo paese. Da quando è arrivato il progetto politico dell'ex primo ministro, mi suona strano dire, dell'ex primo ministro, aveva un progetto culturale dietro, prima di diventare un partito. E questo progetto culturale ha fatto in modo che le menti del paese fossero trattate in una certa maniera, per cui per un po' hanno goduto, accettato. Poi come sempre uno si sveglia, noi italiani ci svegliamo ogni vent'anni, no? Poi c'è chi gli tirano le monetine, chi lo appendono a testa in giù, chi le monetine non gliene hanno tirate l'altra sera perché le monetine non ci sono più, secondo me. Però se no gliele avrebbero tirate. Però a questo punto dobbiamo riflettere anche sul nostro carattere come popolo, cioè non è possibile, è già la terza volta che succede. Se io ho un rapporto sentimentale con una persona e mi succede con tre persone diverse la stessa cosa, non sarà sempre colpa degli altri. C'è qualcosa anch'io che non funziona. Allora, per quello che riguarda le accademie, io non credo che uno che venga buttato fuori da una scuola o non ammesso non sia portato perché la maggioranza degli insegnanti non ha pratica di teatro. Sono attori che non riuscendo a fare quel mestiere sono passati dall'altra parte. E quindi la prima cosa che trasmettono agli allievi è la sfiga che hanno dovuto patire loro. E nello stesso tempo a me sembra, per quello che io sono stato sospeso, che ci sia anche un errore di fondo, un'invidia. Nel senso che la maggioranza degli allievi che arrivano in una scuola, in un'accademia, se ha un talento particolare, a proposito di talento per qualcosa, gli dicono, ah vabbè questo lo sai fare, vediamo se sai fare altro. E io dico, ma perché? Se quello è il suo talento, partiamo da lì e da lì miglioriamo anche gli altri aspetti. Non che questo lo sai fare, no, no, no. Eh, voglio vedere adesso a farti un parte drammatica. Ma perché? Se io so far ridere sviluppami le capacità, dammi gli attrezzi del mestiere per sfruttare al massimo questo talento e quando sarò sicuro di questo talento potrò dedicarmi anche a imparare altri. Invece nelle scuole si procede in questo modo. E quindi credo che già così si capisce che il giudizio che danno sia molto fuori luogo. Poi attenzione, che nelle scuole continuano a considerare ancora chi entra nell'accademia se è di buona famiglia. in senso economico. Perché sanno che riuscirà a reggere i primi periodi con l'aiuto della famiglia. Quindi molto spesso nelle scuole di teatro ci sono i figli di papà. Come si chiamano. Ma questa è una cosa che è un retaggio antico. Perché se no dicono come si mantiene questi tre anni. Lucia Vasini che recita con me, quando fece l'esame all'accademia, gli dissero perché vuoi fare l'attrice alla scuola del piccolo teatro? Perché vuoi fare l'attrice che sei figlia di pescatori? Questa regola vale ancora. Anzi anche di più. Beh, intanto devi farti prendere in una scuola. Ce ne sono diverse, guarda. Provaci. Allora devi cercare di lavorare. Io per dire non ho il diploma. Non è che in teatro ti chiedono il titolo di studio. Se vai, vai. Ti dico, io ho cominciato in realtà come tecnico. Non è che ero sicuro di fare questo mestiere. Lavoravo in una compagnia di attori e marionette. E mi serviva per mantenermi, per emanciparmi dalla famiglia. E facevo il tecnico. Un giorno si è ammalato l'attore che recitava. Ho detto, questo ci vuole, lo faccio io. Sono andato meglio. Fottuto lui. Aveva antaggiatto io. Ma queste sono le regole del teatro. Cioè da scommesse il rischio. Per quello che gli attori, anche ammalati, vanno sul palco in tutte le condizioni. Perché siamo tutti sostituibili. Tutti. E questa è è una cosa che mi ha sentato estrella. Il teatro è molto più grande di tutti noi. Per quanto noi facciamo, il teatro rimane. Noi passiamo. Una funzione sociale. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Io quello che mi sto arrovellando in questo periodo è proprio in base a quello che dicevo prima di cercare di ascoltare molto la realtà, la strada. Come diceva Gaber, è dalla strada e dal paese reale. Che capisci come puoi costruire un teatro che avvinca il pubblico comunque. Nei suoi ritmi, nei suoi contenuti, nelle sue forme, nei suoi stili. Io credo che il teatro debba parlare di noi. Non esiste per me un teatro che dice, quest'anno cosa facciamo? Facciamo un Molière. Come lo facciamo? Verde. Tutto verde. Ah che bella idea. Sì ma che ne frega. Però potrebbe essere che se c'è un testo di Molière, che ne so io, il Don Giovanni o il Tartufo, che parla di qualcosa che ci riguarda, ci si possa lavorare sopra. Non credo che si debba rifare così com'è. Noi tutti ricalchiamo i nostri predecessori, solo che lo svantaggio della mia generazione rispetto a quella di Totò o di Edoardo, è che noi abbiamo i video dei nostri predecessori e il pubblico li può vedere, ma nessuno ha i video di Scarpetta o di Maldacea, che era il comico da cui Totò ha preso. E quindi patiamo questa cosa. Io credo che comunque se un teatro va riformato parte sempre da un lavoro sulla tradizione, perché il mestiere è quello. Dopodiché lo stile e tutto quanto deve essere frutto di un'osservazione del paese reale. E anche la satira non può limitarsi. Io non posso fare in teatro una satira presa dalla televisione, perché quello non è il paese reale. Posso compiacere il pubblico per una serata, ma non di più, perché tutti si riconoscono in quella cosa. Può essere una battuta, può essere un appoggio, ma devi parlare d'altro, perché se la gente esce di casa vuole qualcosa di concreto. Assolutamente sì. Credo che la crisi economica sia anche in fondo una benedizione per gli artisti che hanno delle idee. Perché quelli che hanno delle idee, più ci sono limiti nel portare avanti un progetto, più si esaltano. Ed è lì che viene fuori la figura del matto che si commette. Mentre invece in un momento di tranquillità ci si lascia trascinare. E io vedo molto fermento creativo in questo periodo. E di questo sono molto ottimista. Io non ho visto i soliti idioti e dovrò vederlo per capire cosa sta succedendo. Però questo è sempre stato un problema nel campo del comico. Hai sempre due strade davanti. O regali una caramella oppure fai una provocazione. Se provochi, affronti la realtà. Se regali la caramella, la addolcissi, la neghi. Come diceva lui, io credo che il teatro sia sempre politico. Anche quando tu dici che non fai politica, in realtà hai fatto una scelta a priori. Credo che il problema non sia che esistano realtà di comicità che regalano caramelle. O sonnifero o quant'altro. La realtà è che c'è poco spazio perché invece intende il lavoro in un altro modo. Però così è sempre stato. Deve sicuramente lottare molto di più, ancora di più al di là delle difficoltà che comunque al mestiere anche per i soliti idioti che hanno i loro problemi. Però, voglio dire, sono scelte che uno fa a livello personale, umano e politico comunque. Al di là delle idee, al di là delle posizioni, al di là del partito, se c'è, non c'è. Io credo che è una comicità che ritornerà forte, una comicità impegnata. Io credo che ritornerà su molti versanti dell'arte, dello spettacolo. La parola impegno ritornerà una parola importante e non, come ci hanno fatto credere in questi vent'anni, una cosa inutile, dannosa e pessimistica. Credo che ritornerà. Io sono molto ottimista su questo. Su altre cose sono pessimista. Però su questo sono molto ottimista. Sull'Inter sono pessimista. E poi dobbiamo renderci conto, per dire, io stavo parlando per un contratto cinematografico, che è meglio considerarci, d'ora in poi, piuttosto che, come ci ha fatto credere, come sempre quello lì, una delle otto grandi potenze, un satellite dell'Algeria, e incominciare a ripensare il cinema come l'hanno fatto nei paesi del terzo mondo in questi anni, piuttosto che cercare di imitare Hollywood. E questo riguarda anche il teatro o tant'altro. Noi siamo capaci di fare buone cose quando tocchiamo il fondo. E qui lo stiamo... Voglio dire se lo stiamo... Ci stiamo, ci stiamo, ci siamo vicini. Finalmente. Guarda, io ho notato questo. Quando lo spettacolo è di qualità... Noi viviamo un'epoca particolare. La grande forza del teatro era il bocca a bocca. Come si dice, la pubblicità bocca a bocca. Prima di internet, email, telefonini, cellulari, il bocca a bocca era lentissimo. Questo permetteva a uno spettacolo scarso, se aveva una buona promozione, di fregare più gente possibile, perché il bocca a bocca negativo ritardava. Questo sfavoriva un buono spettacolo di qualità, perché il bocca a bocca, magari tu stavi due settimane in un posto, arrivavi a riempire gli ultimi due sere. E la gente dice, ma che peccato, l'ho saputo dopo. Oggi non è più così. Oggi il bocca a bocca è molto veloce. Penalizza lo spettacolo scarso e aiuta e paga lo spettacolo di qualità, che riguarda veramente la gente. Io credo che l'unico modo oggi per portare la gente a teatro, sia quello di sfruttare le tecnologie contemporanee, perché aiutano il bocca a bocca, che l'hanno reso molto, ma migliaia di volte più veloce. Perché io mando subito un messaggio, dico sono stato lì, mi sono divertito, sono stato lì, mi sono annoiato. Non andare lì, vai lì. Una volta, prima che arrivasse questo, adesso è immediato. E non è un caso che in questo momento di crisi, che gli spettacoli comunque di qualità, e non solo di qualità, ma che non parlano solo ai teatranti, ma come si diceva prima, parlano alla gente e siano premiati. Al di là degli aiuti che ci sono o non ci sono. Scusa, un secondo solo, volevo agganciarmi un attimo a quello che diceva questa persona. La sensazione, nella mia esperienza di teatrante, soprattutto con Gaber, è che il teatro è un'esperienza reale, è un'esperienza fisica. Per esempio, Giorgio, non so se questo succede anche a te, sentiva la necessità di avere un rapporto fisico diretto con ciascuna delle persone presenti in sala. Per cui, un teatro troppo grande lo soffriva, in quanto perdeva il contatto diretto fisico con l'ultimo spettatore. Così come soffriva, per esempio, un'avancena troppo grande, no? Che teneva troppo lontano. Quindi c'era questo impegno e responsabilità reciproca di un rapporto personale fra due entità, lo spettatore e l'artista che era sul palco. Credo che questa sia la vera chance del teatro oggi, nel momento in cui l'esperienza virtuale, sia essa televisiva, ma anche cinematografica, mostra i suoi limiti e quello che poi è una sensazione di alienazione esistenziale rispetto all'esperienza diretta del teatro. Ma io credo che lo spettacolo dal vivo sia sempre meglio. E poi però penso che ci sia bisogno anche dello spettacolo irradiato, o nella rete, o nei cinema, perché comunque sono altri modi di ascoltare, di declinare il mestiere e di viverlo. Però il rapporto fisico è alla base... Prima io ho parlato di... Insomma, i canali più frequentati, televisivi, sono quelli pornografici e quelli di calcio. E alla base c'è un rapporto fisico. Non si può evitare di vederlo, questa cosa. Per cui lo spettacolo dal vivo sicuramente non avrà il peso specifico che aveva nel 400, nel 500. Ma è fondamentale, ancora di più, in un'epoca di una realtà non solo reale, ma anche virtuale. Se non mediatica. Una domanda alla fine, cioè... Sì, questo è uno dei rischi. Bisogna avere molto equilibrio nel gestire queste cose. Troppa televisione, troppo cinema. non è detto che portino al pubblico. Perché uno dice, ma tanto lo vedo sempre in televisione. Perché per un motivo devo andare a vederlo dal vivo. E anche il calcio sta diventando così. Sulla pornografia non ho un'esperienza particolare. Anche se mi avevano chiesto di fare un film porno. Perché devo fare Cuccio nei sette nella biancaneve porno. Però ho rifiutato per motivi politici più che... ma estetici più che politici. Sì, bisogna stare attenti. Poi ti dico una cosa. Io ho poi un'esperienza televisiva di spettacoli dal vivo. Io le due cose fortunate che ho fatto in televisione erano eventi che accadevano da qualche parte. e quindi la gente voleva poi partecipare all'evento. Per dire, io ho mio figlio che lavora in un gruppo di satira in internet. E loro sono molto seguiti come gruppo. Però poi quando hanno fatto una festa ieri sera c'erano migliaia di persone. Per cui in realtà poi se gestisci con un equilibrio la cosa puoi rendere al massimo sia l'uno che l'altro. E' chiaro, se io sono tutti i giorni in televisione per quale motivo devi venire a vedere il mio teatro? E pagare 30 euro che se porti una ragazza su 60 con la pizza su 100. Più il metro 102-103. Penso sei due ragazze. E' impossibile portarle. Io ho letto qualche tua dichiarazione dove dici non ho voglia, non mi va di parlare di Berlusconi. però quando prima casualmente ne hai parlato ti sei illuminato. E hai chiamato la risata. Cioè è venuta. Sì. È venuta. Adesso il re non c'è più. Non ci sarà non ci sarà nei modi nei quali i comici erano abituati a vederlo. Quanto gli deve la satira secondo te? Non poco se devo dire il mio... No, chiunque ci fosse stato al posto suo la satira sa sempre gestirsi. Io penso che che abbia creato dei problemi perché in realtà un conto era nominare una persona e poi sviluppare un racconto. Un conto è nominare questa persona e la gente già ride perché c'è un suo film in testa. Io per dire quando sono andato in Polonia a recitare e in Jugoslavia abbiamo tolto tutti i riferimenti facevamo un moglier su Berlusconi perché mi hanno detto tanto non lo conoscono. in realtà lo conoscevano anche lì però questo l'abbiamo capito dopo. Abbiamo tolto tutti i riferimenti per dire in Polonia a Berlusconi li abbiamo universalizzati e la stampa ha detto era chiara la satira verso Lec Valesa che era il primo ministro della Polonia. Quindi allora quindi io penso che invece abbia creato dei danni soprattutto le barzellette. la barzellette è un'arte stupenda di sintesi una delle prime cose che mi ha insegnato Dario Fo dice guarda che tutto nasce dalla sintesi della barzelletta che è una maniera di raccontare molto nostra molto italiana tra l'altro non è la freddura battuta inglese è proprio la storia il più grande raccontatore di barzellette era Walter Chiari e non era importante arrivare alla battuta e non era importante ridere del fatto che tu sapevi come andava a finire la barzelletta ma era aprire finestre regressioni rotture di regole rotture di stile lì invece qui c'è stata proprio una rovina cioè adesso la barzelletta sembra un'arte misera mentre invece era un'arte nobilissima una volta chi sapeva raccontare le barzellette era non quello che diceva so una barzelletta era quello che la portava così non quella allora sapete l'ultima cioè adesso ogni volta che uno dice mi viene in mente lui e lì è proprio tecnicamente tecnicamente Guccini racconta la barzelletta benissimo tecnicamente è svilitto però c'è stato prima tutte quelle trasmissioni era assai l'ultima di quest'ansia di arrivare alla battuta finale che come scusatemi in un atto sessuale è un'eiaculazione precoce cioè arriviamo subito io ci credo che lui se ne anche 18 in una notte ma se ne ha durato un minuto ogni 18 comunque quest'ansia di arrivare alla conclusione bene se ci sono altre domande ce ne sono ci sono qualitativo poi che ci sarà un ritorno nel piatto nella vita speciale io sono d'accordissimo che sicuramente lo spettacolo dal vivo ha un rapporto emozionale in pazzo e in pazzo che per 4 di fase porta ad avere una qualità maggiore rispetto a uno immediato da un interno ma la mia paura è vedendo comunque con la situazione attuale alla pubblicità commerciale che è il salone che fa il recorto in calcio per i quali pubblici che anche non ho visto ma comunque in giro diciamo nella società di Marta hanno fatto un successone quello che dico io il mezzo per intervenire non è il caso per esempio io parlo del CAU a partire dalle scuole primarie diciamo rieducare i ragazzi verso la cultura del teatro perché io per esempio parlando del mio percorso scolastico con le scuole in giro a teatro si saranno andati tre volte a vedere le cose assolutamente sì quando io dicevo prima di far funzionare il teatro in pieno regime pensavo proprio al fatto delle scuole la responsabilità non è non è stata solo degli insegnanti o degli impiegati del comune che organizzavano queste cose ma anche dei teatranti che hanno considerato sempre la recita per le scuole come una recita minore dove si recitava con meno impegno e si tagliava io ho visto un'Anna Frank da ragazzo e non ho mai sperato tanto nella mia vita che arrivassero i nazisti più presto possibile perché era angosciante il modo come recitavano io ho detto devono arrivare cioè quando sono arrivati io ho tirato un sospiro di sollievo e questo è la dice lunga io credo che i primi a perdere terreno a far perdere terreno allo spettacolo dal vivo siano stati gli operatori dello spettacolo dal vivo che hanno snobbato le tecnologie la televisione per dire come internet hanno snobbato il commerciale senza capire cosa c'era nel commerciale che poteva essere popolare soprattutto il fatto che hanno cominciato soprattutto i teatranti a essere autoreferenziali a fare spettacoli per o i teatranti o per gli amatori di teatro e non per il paese reale e questo vuol dire anche rifiutarsi di capire cosa c'è dietro fenomeni come i soliti idioti o Zelig o altro per dire a me Zelig insegna dai teatranti una cosa che abbiamo una capacità di concentrazione ormai ridotta a tre minuti che il tempo sia noi come artisti che il pubblico che il tempo di una canzonetta di uno spot pubblicitario e quindi ogni tre minuti io devo inventare qualcosa per per svegliarmi io e svegliare loro questo ma è sempre stato comunque questo problema è sempre esistito e credo esisterà comunque sempre il problema non è indebolire questa forma di commercialità ma rafforzare quella dell'impegno senza pretendere di raggiungere i numeri del commerciale creare un'alternativa di un'alternativa